Domenica 28 marzo dalle 8 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 7 alle 15 si vota per le elezioni dei presidenti delle giunte regionali e dei componenti dei consigli regionali in 13 regioni italiane. Con la scheda puoi esprimere due voti. Scegli il presidente della tua regione e la sua lista regionale e scegli anche la lista provinciale del partito che vuoi sostenere. Per maggiori indicazioni sulle modalità di voto in ciascuna regione consulta il sito della tua regione e rivolgiti agli uffici comunali competenti. Nelle stesse giornate e negli stessi orari si vota anche per il rinnovo di 463 amministrazioni comunali e 4 amministrazioni provinciali. Per votare servono un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Elezioni 2010. Votare è un diritto e un dovere civico. Votare è un diritto e un diritto e un diritto e un diritto.